Maxi controllo del territorio ieri sera in tutta la provincia del Grigento. In poche ore circa 100 carabinieri sono scesi in campo, identificando oltre 200 soggetti nei 20 posti di blocco effettuati. Controlli a tappeto dunque. I militari hanno effettuato una raffica di perquisizioni, arrestato e denunciato delle persone. In particolare sono state elevate 32 sanzioni per guida pericolosa, uso del cellulare alla guida, mancata copertura assicurativa e mancata revisione. In due casi è persino scattata la denuncia per guida in stato di ebrezza. Sono state ritirate sette carte di circolazione e altrettanti i mezzi sequestrati. A Sciacca, un giovane 22enne nel corso di una perquisizione, è stato trovato in possesso di due grammi di hashish e pertanto è stato segnalato alla prefettura di Grigento in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti. Accertamenti e verifiche sono stati eseguiti anche nei confronti di 40 persone sottoposte a misure cautelari e alternative alla detenzione e in un caso è stato sorpreso e arrestato ad Aragona un ventenne straniero trovato a spasso nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. In manette è finito anche un 36enne di Sambuca di Sicilia e accusato di lesioni personali commesse durante una violenta lite in famiglia. A Bivona invece i militari a seguito di una perquisizione hanno beccato un giovane di Santo Stefano di Quisquina con un coltello a serramanico lungo circa 16 centimetri. Anche per lui è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria con il sequestro della lama. Lo scopo dei carabinieri è stato quello di esercitare una forte pressione sulla criminalità sia comune sia organizzata. Ad entrare in azione sono state numerose pattuglie dai cinque comandi compagnia carabinieri Sciacca, Cammarata, Agrigento, Canicattie e Licata e delle 43 stazioni dell'arma disseminate in ogni angolo della provincia e i risultati non si sono fatti attendere. Di fatto è in corso un servizio straordinario di controllo del territorio in tutta la provincia di Agrigento. Il fine primario è quello di svolgere un'attività di prevenzione dei reati in genere, dunque di garantire la sicurezza pubblica. È un'attività a cui teniamo molto, che serve ad infondere un maggior senso di sicurezza ai cittadini e in particolar modo durante il fine settimana anche per la prevenzione del cosiddetto fenomeno delle stragi del sabato sera. Una delle finalità di questi servizi è proprio quella di indurre i giovani al rispetto delle regole previste dal codice della strada. Si rischia sicuramente una denuncia all'autorità giudiziaria qualora dall'esame mediante apparato etilometro si risulti positivo all'alcol test.